un secolo fa una delle piaghe più devastanti scosse l'umanità nel suo insieme lasciando un tragico legato un secolo dopo nonostante il vertiginoso progresso della scienza un nuovo flagello è apparso minaccioso spingendoci una volta ancora al distanziamento sociale questo 2 giugno al sorvolo delle frecce tricolori la cerimonia istituzionale e simbolica niente parata tradizionale con la folla assiepata ai fori di roma né feste commemorative celebrate da italiani in tutto il mondo per l'occasione all'improvviso tutto è cambiato sono tempi nuovi tempi che ci portano a reinventarci a ritrovarci e sapere che non siamo da soli tutte le iniziative sono disposte per guarirci per riunire le nostre famiglie e farci tornare al più presto ai nostri posti di lavoro il 2 giugno celebriamo la libertà sinonimo di fratellanza e amore e l'amore e il sentimento che gli italiani all'estero nutrono per la madre patria voi siete il miglior esempio di patriottismo e quindi un grande onore essere al vostro fianco uniti ringraziamo di cuore la nostra rete consulare onoraria che è sempre al servizio dei connazionali nelle zone più remote del paese noi imprenditori italo-venezolari che siamo figli e nipote dell'immigrazione arrivati da un'italia devastata dalle due grandi guerre di fronte alla tragedia che sta vivendo il mondo ed in venezuela aggravata dalla crisi umanitaria saremo capaci di assumere questa nuova sfida e tutti insieme ce la faremo la camera di commercio italo-venezolana presente nelle principali regioni del paese accompagna a tutta la comunità in questo anniversario nell'anniversario della repubblica italiana io come rappresentante della federazione di associazioni italo-venezuelani il quale aggruppa 28 sedi presenti in tutto il venezuela desidero inviare un messaggio di speranza in questi momenti difficili finché al più presto le famiglie gli amici potremo finalmente riabbracciarci si riparte lo faremo insieme distanti ma uniti il 2 giugno è una ricorrenza molto significativa propizia per ricordare i nostri genitori ai nostri nonni che tanto hanno dato all'italia al venezuela carico nazionale insieme sconfiggeremo anche il coronavirus insieme faremo dell'ospedale italiano del venezuela una bellissima realtà un saluto alla comunità italiana del venezuela oggi 2 giugno per noi italiani e la festa della repubblica che ci ricorda i valori della nostra costituzione in cui tutti ci riconosciamo quest'anno causa coronavirus la festa si svolgerà in tono minore il nostro pensiero al nostro presidente sergio mattarella e da lui ci stringiamo in un grande abbraccio di unità e fratellanza il comites di maracaibo continua a lavorare verso i connazionali saluti alla comunità italiana orientale in occasione della festa della repubblica d'italia con grande orgoglio vi saluto dalla città di maracaibo l'italia è l'unico paese da aver mantenuto qui una rappresentanza gli italiani e le nostre imprese hanno un forte praticamente in questa parte del paese sono dunque molto fiero di aver assunto con il ruolo di consola in questa città di tutto cuore buona festa della repubblica in venezuela parico nazionali e discendenti la cultura italiana è sempre presente l'istituto è attivo con i corsi di lingua è un'agenda ricca di appuntamenti che saltano la storia tradizioni e valori del nostro bel paese siamo italiani la cultura dalla dante leggeri del venezuela con tanto amore e simpatia inviamo un messaggio di speranza e solidarietà per affrontare il presente con forza e sacrificio e il futuro con allegria e voglia di ripartire la voce d'italia da 70 anni informa e difende diritti e interessi della nostra comunità entra ogni giorno nelle vostre case ed ora grazie alle nuove tecnologie anche in quella di tanti con nazionali nel mondo e reagire alle versità e trasformarli in opportunità di sviluppo e nel dna di noi emigranti la voce continuerà ad accompagnare alla comunità italiana la grazia e la benedizione del cristo risorto e della vergine pompei la patrona gesù è la luce gesù è il buon pastore ci guidi ci salvi alleluia tutti insieme festeggiamo il 2 giugno e queste sono le nostre voci voci di speranza di coraggio e di guida fissa il corso di una stella potrai navigare in tutte le tempeste questo insegnamento di leonardo da vinci ci invita a guardare la stella della repubblica italiana che potrà guidarci ancora una volta in questo difficile momento avrei voluto riabbracciare tutti gli italiani che ho conosciuto nelle 27 città che ho visitato lo faremo presto intanto viva l'italia viva il venezuela quest'anno anche se la festa è simbolica gli italiani di tutto il mondo festeggiamo a casa con orgoglio la nostra patria tutti insieme uniti per riflettere sul nostro futuro e combattere questa nuova sfida italiani del mondo forza e coraggio attenzione 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 im Grazie a tutti.